Mi chiamo Giovanni Gaia e assieme alle mie due sorelle Gaia e Rossana rappresentiamo la quinta generazione della famiglia Gaia. Siamo originari del Piemonte, l'azienda Gaia nasce nel 1859 a Barbaresco. Arriviamo in Toscana negli anni 90 grazie all'acquisizione di due proprietà, una a Montalcino e una nella zona di Bolgheri. Abbiamo fondato Camarcanda nel 1996 a tratti dalla bellezza della zona di Bolgheri e dalla forza della denominazione che già allora si stava affermando sui mercati nazionali ed esteri. L'interesse a cimentarci con varietà internazionali era già nato in Piemonte perché nel 1978 creiamo Darmaggi, un Cabernet Sauvignon dal carattere fortemente piemontese. C'era quindi la curiosità di scoprire come questa varietà, il Cabernet Sauvignon, si comportasse vicino al mare e in una zona particolarmente vocata. Inoltre proveniendo da una tradizione di produzione di vini a Monovitigno, quindi con il Nebbiolo in Piemonte a Barbaresco, successivamente con il Sangiovese nella zona di Montalcino, ci incuriosiva e ci affascinava anche la sfida di produrre un blend di varietà diverse. Nel 1996 abbiamo comprato 70 etteri di terreno vergine coltivato principalmente a olivo nel cuore di Bolgheri. Successivamente abbiamo incominciato a piantare i vigneti nel 1997 e ultimato la costruzione della cantina nel 2000. Negli ultimi 20 anni abbiamo comprato ulteriori 50 etteri nella zona di Bibona e oggi l'azienda conta un totale di 120 etteri a produzione principalmente Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, sono suddivisi in quattro vini, un bianco vista mare e tre vini rossi che sono Promis, magari Camarcanda. Io personalmente mi sento molto attaccato a Camarcanda perché io sono nato nel 1993 e Camarcanda è nata nel 1996. Per cui è come se fossimo cresciuti assieme, ho visto Camarcanda, l'azienda, crescere in tutti i suoi cambiamenti e è anche come se fossi cresciuti un po' nella zona di Bolgheri perché veniamo molto spesso, una volta a settimana siamo qui e anche le vacanze per la bellezza della zona le passiamo qui, quindi è come se fosse una seconda casa. Tre aggettivi per descrivere i Bolgheri. Selvaggia, accogliente e semplice. Selvaggia perché è una terra bellissima, armoniosa ma non è una terra perfettina, è una terra anche di boschi fitti, di cinghiali, di natura selvaggia che sento poi anche questa forza nei vini. Accogliente perché quando io arrivo a Bolgheri mi sento abbracciata da questa luce calda, dal mare, da queste montagne ricoperte di bosco e ha un effetto proprio anche fisico su di me di grandissimo rilassamento, è molto accogliente. E semplice perché semplice è una parola bistrattata che invece io amo molto e semplice non vuol dire non complesso perché c'è complessità nei vini ma semplice vuol dire non complicato ed è anche un po' come la cucina di queste terre, una cucina semplice delle grigliate di carne, delle bruschette, del pesce che abbiamo, abbiamo il mare a pochi chilometri da qua e c'è la semplicità della materia prima gustosa e eccezionale senza troppe complicazioni. I primi vent'anni di Bolgheri sono stati vent'anni bellissimi, sono stati vent'anni di ricerca, di studio, di sperimentazione, di innovazioni, sono stati anni di sacrifici ma sono stati anche anni di grandissime soddisfazioni. Dove abbiamo cercato di esprimere l'autenticità di questa parte della costa italiana e nello specifico la forza di questa natura rigogliosa e selvaggia che appartiene al territorio di Bolgheri. Abbiamo seguito l'impostazione del Piemonte che è quella che abbiamo imparato lavorando con il nebbiolo che è quella di produrre dei vini di medio corpo, vini con una buona freschezza che riteniamo che tra le tante caratteristiche di un vino queste siano quelle che meglio gli permettono l'abbinamento con la cucina e con il cibo. L'eleganza è un concetto che è stato largamente abusato, non solo nel mondo del vino ma anche in altri settori. Il concetto dell'eleganza è un concetto difficile da esprimere perché è un qualcosa che segue un processo mentale, è un qualcosa di soggettivo, è un qualcosa che va al di là e che stimola però anche l'immaginazione. L'eleganza non è solamente connessa a un luogo, a una varietà e a uno specifico andamento climatico ma è anche connessa a un modo di operare sia dalla parte della cantina e dalla parte della campagna e penso che qua nel territorio di Bolgheri sia possibile esprimere l'eleganza dei vini e quindi trovare un perfetto bilanciamento tra la grandezza e la finezza, tra la facilità di beva e allo stesso tempo la complessità e la capacità del vino di poter bene invecchiare, di poter viaggiare del tempo. Ma non solo, l'eleganza non è fatta di perfezione perché la perfezione è qualcosa secondo me che non esiste, non esiste in natura ma se anche esistesse sarebbe un qualcosa di noioso, di monotono che non porterebbe comunque a nessuno stimolo, a nessuna crescita e penso che la bellezza sia anche quella di riuscire a esprimere nel vino qualche piccola imprecisione, qualche piccola imperfezione, il pregio dei difetti che ti aiuta comunque a dare un'identità geografica a quel vino e quando la assaggi a ricollegarti a uno specifico territorio.